Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Expo e oggi andremo a recensire questa Xiaomi Smartband 8 prodotto che è uscito circa un anno fa ma che tuttora ad oggi è un prodotto davvero molto molto valido ma prima di iniziare vi invito a iscrivervi al mio canale, lasciare un mi piace e un commento relativa magari a questa Smartband 8 iniziamo subito col dire che è un prodotto incredibile in quanto io l'ho utilizzata davvero tantissimo negli ultimi tempi e l'ho utilizzata anche in circostanze molto difficili per lei quindi molto facile diciamo ai graffi, alle rotture ma lei nonostante tutto è riuscita a diciamo competere e a non graffiarsi nonostante appunto le caratteristiche è un prodotto molto valido soprattutto per quello che costa, come potete vedere la mia Smartband 8 è molto vissuta guardate qui il cinturino ha fatto proprio la guerra ma io l'ho tenuto al polso 24 su 24, 7 su 7 in qualsiasi circostanza e comunque diciamo abbiamo la possibilità di cambiare il cinturino in modo molto rapido e veloce e tutto sommato alla fine insomma la Smartband 8, la cassa è ancora in perfetto stato guardate qui e anche il display presenta dei micro graffi ma quasi impercettibili bisogna andare a cercarli quindi come diciamo resa è stata più che ottima ma ora andiamo a parlare proprio della Smartband e intanto nella confezione troviamo un po' di manuali che ormai nessuno legge e poi la sua basetta di ricarica con i pin quindi non è magnetica i pin si vanno ad attaccare qui adesso vediamo un po' nel menu che cosa ha da offrirci questa Smartband 8 possiamo vedere abbiamo le statistiche che ci dà insomma un quadro generale della nostra giornata quindi possiamo vedere le calorie, i passi e quanto tempo siamo stati a fare un'attività possiamo vedere poi gli allenamenti che in questo caso ne sono davvero molti forse anche più di tantissimi orologi che costano molto di più infatti qui possiamo vedere sollevamento pesi, corso all'aperto, camminata, attività libera, escursionismo insomma non ve li cito tutti perché sono davvero tantissimi faccio uno swipe veloce all'interno del menu e guardate c'è ultra completa unica cosa qui non abbiamo il gps all'interno quindi lui si appoggerà al gps del nostro dispositivo assolutamente non abbiamo nessun problema funziona benissimo quindi alla fine si appoggerà al gps del nostro telefono uscendo poi dal menu allenamento possiamo trovare il menu attività che qui ci rileva le rilevazioni che abbiamo fatto noi in passato qui ho fatto come potete vedere un po' di sollevamento pesi e insomma ci sono poi le statistiche, il tempo ci dà le varie statistiche, il battito cardiaco, il battito cardiaco massimo, veramente molto completa poi possiamo andare su corsa e qui ci sono vari programmi per quanto riguarda la corsa lo stato di allenamento che ci dice qui ci dice se ci siamo allenati da poco se abbiamo bisogno di ulteriore recupero insomma ci fa un vario recap del nostro stato abbiamo poi la frequenza cardiaca che insomma non è molto veloce ma secondo me è abbastanza stabile come sensore sensore diciamo ho provato sicuramente dei sensori più veloci più rapidi ma stiamo parlando comunque di prezzi più elevati poi abbiamo vitalità che ci fa diciamo un conteggio che ci dà un punteggio da 0 a 100 negli ultimi 7 giorni ossigenazione nel sangue quindi lui ha la possibilità anche di controllare l'ossigenazione nel sangue poi abbiamo il sonno l'ho provato e onestamente è molto molto preciso ha anche la possibilità di rilevare pisolini quindi è davvero completa poi ci dà lo stress che onestamente su tutti i dispositivi non ho mai capito la reale utilità di questo punteggio non mi sono mai trovato molto d'accordo onestamente ma non solo con la smart band 8 ma proprio con tutti i dispositivi che ci danno la possibilità di registrare lo stress poi abbiamo il meteo e quindi ci danno varie informazioni riguardo al meteo molto completa e minimale la sveglia possiamo impostare diverse sveglie poi abbiamo le impostazioni le impostazioni sono forse il suo punto forte perché è una smart band davvero molto completa proprio come dice il nome smart ma nel vero senso della parola perché io ho trovato delle impostazioni che non trovo su dispositivi di fascia più alta mi è piaciuto ad esempio il fatto dell'impostazione di non disturbare che ci dà la possibilità di settarlo come meglio vogliamo in questo caso potete vedere io ho modalità sonno attiva e in poche parole quando il dispositivo rileva che stiamo dormendo lui si setta in automatica su non disturbare quindi non riceveremo più notifiche e non vibra più al pulso insomma veramente il top per quello che si va a pagare poi abbiamo la possibilità di impostare ci dà la possibilità di metterlo disattivato in intelligente oppure programmato queste funzionalità sono davvero molto smart perché ci permettono di ottimizzare al meglio lo stato della batteria mettendolo su intelligente infatti appena lo togliamo dal polso oppure quando ci addormentiamo lui andrà a spegnere in automatico l'always on display quindi risparmieremo molta batteria oppure possiamo metterlo programmato chiaramente con l'always on display la batteria andrà a scendere in modo molto più rapido però ragazzi insomma adesso arriviamo anche sulla batteria di questo dispositivo vi faccio vedere attualmente è al 15% ed è una settimana che non la ricarico ho avuto l'always on display attivo tutte le rilevazioni attive e vi posso dire che è una bomba è una batteria incredibile dura davvero tantissimo e questa cosa è ottima perché ci dà la possibilità di attivare tutte le sue funzionalità a discapito appunto magari di consumare un po' di batteria ma non ci darà problemi perché ci porterà poi sempre fino a fine settimana tra l'altro la schermata tra l'altro la schermata della batteria è sempre ben ottimizzata e ci dà più o meno le cose che si possono disattivare vedete qui ho tracciamento continuo monitoraggio continuo dello stress monitoraggio avanzato del sonno punteggio respirazione insomma ho attivato praticamente tutto e mi dà ancora 23 ore residue con questa percentuale e poi possiamo attivare anche il risparmio energetico che ci dà la possibilità appunto di estendere ancora la durata di questa smart band veramente ultra mega completa davvero ultra smart andando poi su altro abbiamo altre cose ancora nascoste qui abbiamo eventi, avvisi, la possibilità di farci aiutare in fase di respirazione cronometro, musica che possiamo controllare la musica sul nostro dispositivo il trovatelefono, orologio mondiale silenzio il telefono fotocamera per scattare a distanza dalla nostra smart band abbiamo il timer, la torcia che illumina il display totalmente di bianco e la concentrazione qui che ci fa impostare un timer per rimanere concentrati veramente mega completa cioè è una cosa incredibile per quello che costa inoltre troviamo uno schermo ragazzi da 60 Hz e si vedono tutti cioè è una fluidità incredibile avere questa smart band 8 al pulso e poi abbiamo altre ancora possibilità perché fino adesso vi ho fatto vedere il menu adesso vi faccio vedere gli swipe laterali allora facendo uno swipe in questo verso destra abbiamo la possibilità di avere piccoli toggle rapidi piccoli toggle facendo uno swipe verso destra abbiamo la possibilità di avere questi piccoli tre pulsanti molto utili come non disturbare, trovatelefono, impostazioni quindi quelli là proprio più utili e rapidi poi andando sulla schermata con uno swipe verso sinistra io li ho personalizzati e in questo caso mi sono messo sveglia, torcia poi ho messo la possibilità di controllare il sonno subito, il battito cardiaco qui ho messo i passi, le calorie ossigenazione del sangue e qui le varie statistiche poi ho messo il meteo e qui ho messo di nuovo la schermata che vi ho fatto vedere prima insomma è veramente completa e ultra personalizzabile perché qua potete scegliere voi quello che inserire si chiamano widget e potete inserire voi tranquillamente quello che vi pare e piace è veramente molto comodo vi faccio vedere anche varie schermate ce ne sono poi altre da scaricare vediamo se mette a fuoco tra l'altro queste schermate come potete vedere al di sotto ci esce una rotellina che ci dà la possibilità appunto di personalizzare poi ulteriormente la watch face in questo caso non sono riuscito a cliccare faccio vedere vedete in alcune watch face ci dà la possibilità poi di personalizzare i colori e oppure le varie schermate e qui in questo caso facendo uno swipe ci dà la possibilità di far cambiare il colore al orario principale parlando poi di notifiche ci dà la possibilità di vedere le notifiche ma ovviamente di non avere nessuna possibilità di rispondere le emoji si vedono con un quadratino quindi non sono complete non si riescono a leggere però tutto sommato per avere un notificatore al polso per capire subito chi è che ci ha scritto e cosa ci ha scritto secondo me è un prodotto più che valido inoltre secondo me chi acquista questo prodotto è perché principalmente vuole utilizzare i suoi sensori smart e vi assicuro che è veramente di una comodità incredibile io l'ho indossata sempre al polso di notte lei è molto leggera e non dà fastidio l'ho indossata poi mentre ho fatto tantissime docce con questo dispositivo al polso mai nessun tipo di problema ed è un prodotto davvero versatile perché diciamo può risultare anche bello ed elegante averlo al polso quando si esce può essere comodo quando si lavora e può essere utilizzato sia per dormire che per fare le docce è un prodotto che quando si mette al polso vi dimenticate nel vero senso della parola di toglierlo a causa anche della sua incredibile autonomia insomma è un prodotto davvero davvero completo stiamo parlando della smart band 8 è uscita anche la smart band 9 quindi se volete spendere una decina di euro in più potete comprare la 9 questa qui attualmente la trovata è sui 30 euro magari la potete comprare anche usata secondo me la trovate anche sui 20 euro e tutto sommato è un prodotto che vale la pena acquistare io ve la straconsiglio perché per qualità prezzo fa cose che insomma non hanno nulla da invidiare a prodotti molto ma molto più costosi io ad esempio ho comprato questo watch gt5 ma certo abbiamo un display molto più qualitativo ma tutto sommato questa smart band per essere utilizzata tutti i giorni in modo assiduo è veramente incredibile inoltre è resistentissima quindi per me questo prodotto è più che valido ed è consigliatissimo ragazzi io vi ringrazio per aver visto il video vi invito a iscrivervi al mio canale se volete vedere altre mie recensioni di altri prodotti vi invito a lasciare un mi piace e un commento e noi ci vediamo presto in una prossima recensione ciao ragazzi